Stanco di stare recluso a casa in quel di Gela, ha pensato bene di passare qualche momento di svago giocando a pallone nella via adiacente alla sua abitazione. Però purtroppo il tunisino di 24 anni, Bilal Yazar, non immaginava che i carabinieri di Gela sarebbero passati da lì e lo avrebbero visto. Infatti l'uomo agli arresti domiciliari non avrebbe potuto uscire di casa come disposto dalla misura cautelare. Il giovane ha provato a nascondersi, ma i militari lo hanno immediatamente bloccato ed arrestato per evasione. Grazie.